Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay Allora, l'avevo anticipato nel video di The House e di The Halloween Questo è The House 2 Allora, premetto una cosa Spero che la Sintai Studio non si sia impegnata per fare questo gioco Spero di no Lo spero davvero, perché Se la Sintai Studio si è impegnata per fare questo gioco Io sono fottuto Ve lo dico subito Ho alla mia destra un paio di mutande Nella mano sinistra ho la cartigenica E sotto sono seduto sopra a un cesso Così sono bello pronto Niente mi può spaventare Cioè, mi può spaventare ma sono pronto alla reazione Quindi direi che possiamo cominciare Questo naturalmente è un gioco flash game Quindi andrà nella mia rubrica dedicata a questo tipo di giochi È sempre un gioco horror creato dalla Sintai Studio E possiamo interagire nel gioco utilizzando il mouse Quindi, cominciamo Eccolo qua, The House 2 Mamma mia, spero davvero non si siano impegnati per farlo Ok Come nel primo abbiamo un solo tasto all'inizio che è Get Inside Quindi entriamo Ah, c'è la porta Chiusa con delle assi di legno Quindi... Ah sì, sì, ovvio Lo fa sempre la Sintai Studio in tutti i suoi giochi Ecco, infatti Per interagire bisogna magari cliccare più volte su un solo oggetto O cliccare su tanti oggetti Ecco Ora siamo dentro la casa Cinque stanze Mi sembra anche in The House 1 c'erano cinque stanze Quindi... Diciamo che è un po' uno standard Invece The Halloween era uno speciale Un gioco speciale creato apposta per Halloween C'era una sola stanza ma era bastardissima Infatti durava proprio poco Durava nove minuti Adesso spiego Ok, no Ci ha messo poco a caricare Ok Vediamo subito gli oggetti con cui possiamo interagire Abbiamo un fogliette Con la data Sì, va bene Odio questo tipo di foto Madonna, guardate la bambina Sembra che non abbia gli occhi, cazzo Ah, sì, che bello E poi abbiamo un bellissimo Direi davvero bellissimo Interruttore Della luce Ho avuto una bruttissima esperienza Con gli interruttori In The House 1 E in The House 2 Spero non sia la stessa cosa Davvero, spero Dai, cosa devo fare? Ecco Oh Oh Calmi ragazzi Oh, no, 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 no Che io ho l'infarto e lo sento già in corso No, 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 no Se fate così non andiamo d'accordo No, 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 no Non ci siamo capiti No, 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 nient'altro, no Non sono interruttore, non mi piace No, 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 no No, 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 quando cominciano a sussurrare così non mi piace No, 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 no Mi rifiuto categoricamente di giocare a sto gioco, cazzo Oh che bello, un altro bigliettino E vabbè Dicono sempre le stesse cose Ah, è cambiato Ah, a volte parla da sola Ride nella notte E chiama qualcuno Addirittura Ah, almeno l'interruttore si è rotto Che cazzo devo fare? Dai, madonna Oh, cazzo, cazzo Mio Dio Sono già tutto sudato Che cosa posso premere ora? She's not Non riesco a leggere Oh, no, 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 no No, 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 no Mamma mia Questa era solo la prima No, 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 no Mi rimangono altre quattro Altre quattro stanze No, no, prego No, il bagno Il bagno no Non il bagno Anche qua ho avuto una brutta esperienza so che sei qua dietro vadoo no vadoo no strano ah il nostro bel cesso che ci segue un po' ovunque ah lo possiamo attivare ah no ma non va lo sciacquone peccato in the house almeno andava poi cosa abbiamo oh la bibbia la sacra bibbia ok allora possiamo cominciare a esorcizzare tutta la casa non la posso prendere cazzo prendi la madonna è l'unico oggetto che ti serve no in realtà sono due gli oggetti che ci possono servire in questa casa una è la bibbia l'altro ve lo lascio indovinare è qui in questa stanza e ce l'ho davanti si è il cesso il cesso direi che è utile quanto la bibbia in questo gioco forse anche di più perché ti può salvare da diarrea improvvisa ah qui c'è del sangue e poi ah il rubinetto funziona no 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 perché c'è qualcuno che batte la bibbia ok allora ho capito tu sei qui no tu sei qui no 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 non andiamo d'accordo no no sangue ovunque mamma mia oh ok quindi immagino no quindi ora questo non posso più utilizzare sei qui no che cosa devo fare dimmelo dimmelo bibbia aiutami ah ma c'è un bigliettino no pottevate dirmelo no 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 uh uh so che sei qui uff 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 so che c'è qualcuno qui no 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 sono pronto sei qui no 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 sei qui no 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 fordimi va bene uff 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 mamma mia dai che siamo quasi a metà quasi siamo quasi a metà oh che bella la stanza da letto possiamo cominciare sono tutto gasato la stanza da letto mi piace dove c'è il letto dove ci si riposa oh che bella abbiamo un quadro che non possiamo guardare un orsacchiotto che non possiamo toccare e un carrillon ah che funziona no ah si funziona no no dai no ma questo non fa che amplificare la paura ah certificato di adozione ah quindi la bambina è stata adottata chiaramente no ma non si ferma sto coso madonna no 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 se cominci a ridere non andiamo d'accordo uff 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 mio dio brutti bastardi se incontro quelli della sintai studio io gli uccido questi she's calm every night poi she loves playing hide and seek perfetto dopo l'ultimo cosa appare she's really good and he's hiding i never find him ora cosa appare uff lo sapevo no 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 non voglio giocare con te brutta stronza di una bambina vaffanculo ah ce l'ha qualcosa eh certo la bambina di the ring no 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 No, 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 no. Mio Dio. Uff. Porca bug... Uff mio Dio. Vaffanculo, ho capito. Che stronzi ho capito cos'hanno fatto sti stronzi. Mi hanno fatto la scritta loading, così tu avevi, ormai, la certezza che la bambina fosse scomparsa, invece era ancora lì. ma che bello una bella stanza buia almeno si vede un cazzo qui cosa non posso prenderlo questa è una corda non posso prenderla a poche bello un altro interruttore non mi odiata interruttore vaffanculo quindi vediamo accordo non fa niente ma qua c'è il solito veleno che c'è in ogni gioco come the house lo so lo so che appari lo so che appari la sintai studio non ha fantasia so che sei qui rivelati rivelati per quello che sei ah no ma qui c'è qualcosa si va bene non lo voglio dire cazzo dove c'è c'era? a 1947 47 ah qua il papà si chiamava milla la mamma mary swans swans la bambina olrena rus direi che non me ne può fregare di meno non si attiva no uff 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 vaffanculo fanculo tu wow wow qui ci sono tutte queste voci cosa c'è qua safe room una chiave che ora oh scomparso ma non era un po' più alta capio doveva essere un po' più in su vabbè lasciamogli alla passata ah qui c'è un foglietto can't stand to see your supper like this non riesco a leggere qui eeeh va bene no sempre sto acido che non serve assolutamente niente uff madonna era questa la bambina oddio va bene ti entera ti entera non la voglio uff siamo all'ultima ultima stanza the safe room il nome è tutto un programma almeno si sarà sicuramente quella più bastarda no no break cos'è ah una tipo una cassaforte ah c'è un enigma c'è da mettere un numero non lo so proviamo come si attiva no maledizio allora ho capito 1 2 3 4 non funziona eh non le so non le ho lette le date cos'era quella la era 1900 eeeh 1940 no era eeeh 1947 eh si ma oh ha funzionato l'unica data che ho letto why why I have to die mom I want to live no matter what va bene finito il gioco no 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 questo non posso vederlo no 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 ti prego ti prego ti prego no adesso compari lo so sei bastarda vasinta i studio non ha fantasia no 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 basta 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 prendo la pistola e gli sparo no so che sei qui so che sei qui cazzo devo fare cosa devo oddio no 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 non posso uscire no 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 basta no 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 ti prego ti prego ti prego non comparire dai dai ti voglio bene no 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 tieni le mani così tieni le mani così ti prego dai no basta stai così e basta finito il gioco così non credo che gioco è rivelati per quello che sei no cazzo cazzo oh oh andare a farmi una doccia ah uff uff le siamo sopravvissuti anche a questo sintai studio vai a cagare col cuore vai a cagare davvero vabbè è passata anche questa io la mia dose di infarti l'ho presa non potete negarlo l'ho presa anche qua si si sono messi di impegno ancora di più di The House e di si forse era un un po' come The Halloween forse The Halloween mi aveva fatto anche più paura perché era solo era tutto in una stanza e avevi soltanto praticamente un interruttore da premere non capivi mai mai quando non capivi neanche cosa potesse comparire perché non c'erano immagini di una bambina come qui una bambina che che aveva una famiglia e lì non si capiva niente lì c'era soltanto una una zucca che levitava quindi forse mi ha preso più di sorpresa questo fa fa più paura forse però quello ti prende non lo so vabbè dipende giudicate voi poi scrivetemelo nei commenti comunque questo video finisce qui ricordatevi come sempre se vi è piaciuto di mettere mi piace di condividere e di commentare ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale cos'altro da dirvi niente io vi saluto e basta ci vediamo presto con un nuovo video ciao a tutti ragazzi